Era una partita difficile, lo sapevamo. All'inizio l'Agnonese ci ha messo in grossa difficoltà. Noi siamo stati bravi a rimanere sempre in partita, poi sicuramente l'espulsione ci ha agevolato e poi abbiamo fatto le cose che dovevamo fare, abbiamo trovato il pareggio prima alla fine del primo tempo. Poi subito all'inizio il secondo gol che in pratica doveva mettere le cose a posto ma abbiamo avuto tantissime occasioni per chiuderla, non l'abbiamo fatto e fino alla fine l'abbiamo tenuta in bilico. Lì è un aspetto che sicuramente dobbiamo migliorare. Di sicuro la salvezza è cosa fatta, quello che era il vostro obiettivo principale ma senza pressioni, continuate a divertirvi, il pensiero resta comunque allasù, classifica alla mano. Sì, noi vogliamo toglierci qualche soddisfazione, è vero che ormai sarebbe una falsa modestia per continuare a dire che pensiamo alla salvezza perché l'avremmo quasi raggiunta anche se mancano ancora tante partite, però noi dobbiamo continuare a divertirci a pensare non a chissà che cosa, dobbiamo pensare come abbiamo fatto fino adesso ad affrontare l'avversario ogni domenica nel migliore dei modi cercare di allenarci durante la settimana per provare a batterlo poi se ci riusciamo bene altrimenti fa niente.